Captain Corelli Guarda Il miglior coffee shop di Londra Guarda Facciamo il video di casa Paolo Paolo siciliano Paolo mafioso Siciliano di mafia Siciliano di mafia Puro Guarda 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 Come si vede Fai un bel video Si si bello Si eh filmo tutto Guardate No 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 ha babbo la mamma guarda i formaggi Qui Prosciutti Video pubblicitario Tutti i cantanti Tutti i cantanti Tutti i sordi Tutti i cantanti Tutti i sordi Un citario Un citario Un citario Un citario Guarda Un citario Va bene Ciao 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 Forza Sicilia Ciao 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 Ciao, ciao! Poi c'è chiaramente Al Pacino Scarface, non poteva mancare. Telepotto in bianco e nero. Questo è storico, eh? C'è il stallone là. Sofia Lore. Tutti ci sono. Un bel piatto di pasta con le polpettine. Va bene! Roba Sicileana, azzerzi! Un saluto a Mustafà. Ciao Mustafà! Saluto all'Italia! Ciao! Ciao Italia! Grazie! Forza Italia! Forza Italia! Forza Italia! Forza Italia! Forza Italia! Forza Italia! Sempre, sempre! Ciao! Forza Italia! Forza Italia! Vorza Italia! Grazie a tutti.